E' la notte della finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa di fronte a 4.500 spettatori. Dentro le protagoniste di Roma e Fiorentina che si contenderanno il trofeo. La Fiorentina passa in vantaggio con Amarlund. Cross morbido colpo di tacco di Giuliano Giacinti in porta 1-1. Amarlund che cerca Iannoggi e di nuovo avanti la Fiorentina. Grande palla di Jonas Dottir per Iannoggi che resiste a contrasto. 3-1. C'è Giuliano che curva il destro. E la Roma accorcia con Minami. Palla dentro. Per Bien. 3-3. E i rigori decideranno chi conquisterà la Coppa Italia Femminile Frecciarossa 2023-24. Palo. Inizia male la Fiorentina. Sfortunata a gara. Baldi. Come un gatto. Si torna in parità. Severini contro Ceasar. Ed è disperata Emma Severini. Trosgard contro Baldi. È giallorossa la notte di Cesena. E' servito il quinto rigore alla Roma per portare a casa la seconda Coppa Italia della storia giallorossa.